Apriamo parlando di elezioni regionali, concluse le verifiche dell'ufficio unico circoscrizionale sulle 17 liste in corsa per il 22 aprile. Dopo una prima esclusione della lista di Casa Pound del candidato Marcello Miniscalco è giunta la riammissione alla competizione. Restano fuori per il momento i forconi. 17 liste presentate, 4 gli aspiranti successori del governatore uscente Paolo Di Laura Frattura e più di 300 candidati alla carica di consigliere regionale. Questo è il verdetto arrivato alle ore 12 di sabato scorso, quando sono state ufficializzate liste e nomi in corsa alle elezioni regionali del 22 aprile. Dopo una prima esclusione è stata riammessa in mattinata la lista Casa Pound, collegata al candidato presidente della regione Agostino Di Giacomo. La formazione politica di estrema destra per la prima volta partecipa alle elezioni regionali. Questo è il verdetto dell'ufficio circoscrizionale unico di Campobasso. Riammesso anche il segretario del Partito Socialista Marcello Miniscalco, candidato nella lista Unione per il Molise. La motivazione con la quale Miniscalco era stato inizialmente escluso era la stessa che gli impedì una candidatura nel listino maggioritario del centro-sinistra alle regionali del 2013, ovvero una condanna passata in giudicato per il reato d'abuso d'ufficio, inflittagli nel 2001, e per la quale Miniscalco ha però chiesto la riabilitazione. Fuori dalla competizione elettorale il movimento dei Forconi, la lista guidata dall'ex sindaco di Oratino, Orlando Iannotti, non avrebbe compiuto gli adempimenti burocratici necessari per depositare nominativo e simbolo dentro il territorio nazionale, e questo ha costituito motivo di esclusione dell'intera lista. Per il momento va precisato che i casi relativi a presunte irregolarità sono nettamente inferiori a quelli verificatesi alle elezioni regionali del 2013. Grazie.